ciao a tutti ragazzi oggi vi parlo del nuovo osprey exos 48 uno zaino ultralight con tantissime fettucce come vedremo uno zaino molto particolare che secondo me va bene per un pubblico molto particolare quindi iniziamo la recensione e ve lo racconto come vi dicevo zaino ultralight questo è uno zaino da 48 litri che pesa solamente un chilo e 300 grammi ma volendo possiamo farlo pesare ancora meno andando a togliere il cappuccio nella parte sommitale e andando a rimuovere anche un po di fettucce che vengono messe in dotazione da osprey a quel punto possiamo arrivare a farlo pesare un chilo e cento grammi ma iniziamo a vedere le caratteristiche di questo zaino partendo dalla parte anteriore quindi schienale uno schienale con sistema hair speed di osprey col quale sarò sincero mi sono trovato veramente veramente bene l'ho utilizzato in questa estate veramente calda in delle giornate veramente veramente calde e devo dire ha lavorato molto molto bene io non ho avuto eccessiva sudorazione nonostante la giornata fosse veramente calda che dire mi ha convinto non si impregna di sudore in sé lo zaino la retina è fatta bene tiene ben distanziato lo zaino dalla schiena compresa tutta la parte poi naturalmente anche qua sotto della fascia lombare c'è anche qua questo sistema hair speed lavora molto molto bene e visto che parliamo di fascia lombare vi racconto innanzitutto che sulla fascia lombare abbiamo sia da una parte che dall'altra due belle tasche dove poter andare a riporre dei nostri oggetti e poi scarica molto bene il peso questo zaino osprey lo certifica fino a 13 kg io starei al massimo 10 massimo 11 perché oltre inizierà a farvi male le spalle ma 10 11 kg sono benissimo sopportabili anche per tante ore di cammino anche per più giorni per quanto riguarda poi la parte anteriore la chiusura abbiamo una solita cinghia dove andare a chiuderla andare a tirarla non abbiamo la possibilità di mettere via o di raccogliere il materiale che avanza quindi questo ci sballonzolerà davanti mentre camminiamo però anche a pieno carico questa non si è mai aperta per quanto riguarda invece gli spallacci anche loro sono fatti bene sono molto traspiranti non hanno una sezione particolarmente grossa però sono molto imbottiti sono veramente veramente comodi e sullo spallaccio di destra troviamo la classica fettuccia anche qua per andare a chiuderla a chiudere lo zaino sul nostro addome l'unica cosa non ha la parte elastica quindi quando andiamo a respirare questo non si andrà a dilatare e a restringersi in base al nostro respiro mentre sulla parte di sinistra abbiamo questa classica fettuccia dove poter andare a riporre i nostri bastoncini se dobbiamo riporli velocemente e qua come al solito inseriamo la parte sommitale del bastone e qua dietro in questa taschina qua il puntale infine per quanto riguarda lo schienale come sicuramente avrete visto è adattabile in base alla nostra altezza abbiamo quattro diversi fori dove poter andare a riporre il nostro schienale io l'ho utilizzato al massimo perché sono abbastanza alto ma può andar bene davvero per qualsiasi personale in base a qualsiasi altezza e anche qua naturalmente anche a pieno carico questo sistema non mi ha dato mai nessun problema parlando un attimo del bilanciamento di questo zaino visto che siamo sulla parte anteriore vi racconto che qua si vede benissimo la struttura in ferro dello zaino in alluminio distribuisce il carico veramente molto bene e questa è un'altra feature un altro aspetto per il quale poi lo zaino scarica molto bene a questo punto andiamo a girare lo zaino e inizio a raccontarvelo da questa singola parte allora qua cosa troviamo innanzitutto troviamo la tasca dove andare a riporre la nostra borraccia sia apribile dalla parte superiore che da questa altra parte orizzontale per poter andare a prendere e rimettere la borraccia da soli senza aver bisogno di qualcun altro che ci aiuti un aspetto che mi è piaciuto molto di questo zaino è tutta questa fettuccia che corre a zigzag sulle parti laterali perché tirata abbastanza bene ci permette di poter utilizzare lo zaino anche da semivuoto come vi dicevo è un 48 litri ma se lo carichiamo come un 35 tirando queste fettucce lo zaino non sballozzolerà a destra a sinistra non ci sbilancerà e quindi potremmo utilizzarlo anche da mezzo vuoto tirandole sia da una parte che anche dall'altra quindi queste fettucce fatte veramente molto bene soprattutto mi piace il fatto che corra praticamente per tutta la lunghezza dello zaino continuando vediamo lo zaino nella sua parte posteriore cosa troviamo troviamo una clip qua che ci permette di andare aprire la tasca dove poter mettere all'esterno qualche indumento qualche oggetto questa molto elastica ci sta dentro veramente tantissimo materiale e anche questa si richiude nella parte alta con una piccola clip e si può tirare qui troviamo un semplice semplicissimo fettuccia che ci permette di poter sollevare lo zaino mentre nella parte bassa qua iniziano le tante cinghie che vi raccontavo prima le tante fettucce qui abbiamo tutta una serie di fettucce che si possono andare a togliere ma che ci permettono di poter porre nella parte sotto dello zaino una nostra tenda un materassino un sacco a pelo quindi abbiamo tutte queste fettucce perché naturalmente essendo uno zaino molto grosso queste ci devono permettere di poter portare tutto il carico del quale abbiamo bisogno per i nostri trekking infine girando di nuovo lo zaino questo lato è praticamente simile all'altro abbiamo la fettuccia che corre a zig zag per tutta la sua lunghezza la tasca dove andare a riporre la nostra borraccia come dicevo la parte finale dove porre il nostro bastoncino quando li poniamo sul davanti e basta gli durati sono abbastanza paragonabili per quanto riguarda poi dove porre i bastoncini abbiamo sia davanti come vi faccio vedere ma anche qua questa fettuccia dove possiamo andare a riporre entrambi i bastoncini e qua sotto dove andare a inserire il puntale qua ci può stare benissimo anche una piccozza veniamo ora a parlare della parte sommitale di questo zaino dove abbiamo come dicevo il cappuccio che questo si può andare a togliere si può togliere si può andare a diminuire proprio la grandezza dello zaino e si può andare a diminuire anche il suo peso se andiamo a toglierlo abbiamo questa parte in più data già in dotazione che è completamente attaccata in cui noi possiamo andare a richiudere lo zaino in modo tale da avere comunque una copertura ottima feature molto interessante unica cosa io avrei messo magari una piccola taschina una piccola fettuccia dove potrei andare a riporre questa parte di materiale se utilizziamo il nostro cappuccio perché altrimenti si rischia che resta sempre a sbalzo e da abbastanza fastidio per quanto riguarda il cappuccio poi abbiamo nella parte interna una tasca a rete molto molto grossa davvero molto grossa e un'altra tasca la troviamo anche nella parte esterna qua davvero solo nel cappuccio ci stanno davvero tanti oggetti perché sono due tasche molto grosse una fettuccia che non mi è piaciuta è quella che troviamo all'interno dello zaino intanto poi apertura classica quindi tirando non andiamo aprire lo zaino e tirando la nostra il nostro cordino andiamo a richiudere qua dentro praticamente c'è una fettuccia abbastanza in basso di colore rosso che non mi ha convinto perché a mio parere non è mossa nel posto migliore non è così efficiente ospre la messa per poter chiudere lo zaino chiudere il carico e metterla a fare in modo che la roba resti dentro a mio parere sarebbe stato meglio metterla magari all'esterno l'avessimo avuto all'esterno potremmo portarci una corda questa qua poi essendo messa non proprio sulla parte finale cioè non è messa proprio qua dove finisce lo zaino ma essendo messa anche più in basso va a toglierci anche spazio se la andiamo a utilizzare che dire non mi ha convinto io questa fettuccia avrei messa sulla parte esterna perché a quel punto davvero potremmo portarci una corda cosa che adesso non possiamo fare perché se portiamo una corda volendo utilizzare questa fettuccia praticamente dobbiamo tenere lo zaino aperto visto che parliamo di apertura dello zaino vi comunico che lui ha solo l'apertura sulla parte superiore non ha nessun altro tipo di aperture né a metà né in basso quindi qualsiasi cosa noi andremo a riporre nella parte bassa dovremo praticamente svuotare tutto lo zaino per poter andare a riprenderla infine parlando di comparto acqua possiamo inserire all'interno una vescica con il solito buco per farla poter cadere sul davanti ma non abbiamo il rain cover non viene dato in dotazione probabilmente anche qua per andare a risparmiare peso e rendere uno zaino sempre più ultra light perciò cosa ne penso di questo zaino allora mi è piaciuto è uno zaino molto particolare perché comunque come vi dicevo ha tante fettucce bisogna saperlo organizzare per sapere anche andare a gestire bene il peso sapere anche equilibrare il peso sullo zaino se lo mettiamo anche oggetti all'esterno è uno zaino sicuramente per gli amanti dell'ultra light per persone che comunque quando riempiono uno zaino da 50 litri 48 non superano i 10 chili che fidatevi non è così semplice non superarli per il resto qualità osprei che si conferma sempre ottima nella qualità dei materiali nella qualità delle fettucce nella qualità delle cuciture e che dire io vi consiglio questo zaino solamente se siete persone abbastanza esperte abbastanza organizzate e se vi piace il minimalismo perché se non siete organizzati non sapete riempire per bene questo zaino può rappresentare per voi un incubo più che un ottimo zaino in quel caso vi consiglio di puntare su uno zaino magari più strutturato uno zaino con più tasche che vi dà modo di poter organizzare meglio il materiale detto ciò ragazzi io nella speranza sia stato esaurante e esaustivo anche in questo video vi saluto e ci vediamo al prossimo ciao